Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, oramai mancano davvero pochissime ore al tanto atteso aggiornamento. Non sappiamo ancora se si chiamerà 8.1 o 8.0.1, sappiamo che è programmato per le ore 10 di questa mattina. E nel video di oggi ragazzi, ovviamente, non mancheremo di darvi alcuni aggiornamenti appunto sulla patch 8.0.1, chiamiamola così. Parleremo, ieri mi sono dimenticato nel video. Vi chiedo scusa delle sfide della settimana 2, quelle che arriveranno domani. Parleremo anche ragazzi di un nuovo progetto che Microsoft sta per mettere in atto relativo a una nuova Xbox. E come contenuto speciale, sembra che il signor Marshmallow abbia spoilerizzato qualcosa sulle uova presenti ancora nella mappa in questa season. Numero 8. Ci tengo a ringraziarvi però tantissimo per utilizzare il mio codice XIUDERONE quando scioppazzate di prepotenza nel vostro shop. Grazie di cuore per il supporto, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto non dimenticatevi di attivare la campanella che serve per tenere sempre aggiornati tutti i miei video e tutte le mie live. Ma prima ragazzi la domandina, la domandina ve la devo fare. Ci tengo un casino a farvela i vostri commenti qua sotto. Mi raccomando, riempitemi il video di commenti ed è una domanda molto personale. Come ti sembra il pass battaglia? Dai ragazzi, oramai siamo già quasi alla settimana numero 2. Alcuni di voi avranno già macinato prepotentemente un po' di livelli del pass battaglia. Cosa ne pensate? A me personalmente non dispiace ragazzi. Ci sono i due nuovi animali molto carini, ci sono un bel po' di camo per le armi molto molto interessanti. Insomma ragazzi, a me questo pass... C'è la banana, c'è la banana. A me questo pass battaglia non dispiace. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance. Andiamo subito subito ragazzi a vedere il tweet ufficiale arrivato a mezzogiorno indicativamente di ieri. Dove? Della pagina ufficiale di Fortnite. X marks the spot. Che il titolo della season numero 8, la X segna il punto. Downtime begins tomorrow. Quindi il downtime inizia oggi, marzo 6, il 6 marzo, alle 4 di mattina dell'European Time, alle 9 nell'Uri... non è T European Time, non mi ricordo, comunque alle 10 per noi ragazzi. Alle 10 del mattino vanno giù i server e fanno l'update. Essendoci probabilmente il downtime dei server, io mi auguro e spero che arriveranno dei nuovi leaks, che ovviamente sarete i primi a sapere. Non vedo l'ora ragazzi, davvero, di farvelo sapere, anche perché tutti noi vogliamo un pochettino capirci finalmente un po' di più di che cavolo di ruolo avrà questa mappa del tesoro. Ne abbiamo tirate davvero tante di ipotesi ragazzi. Abbiamo visto che sarà un oggetto disponibile, abbiamo visto che nella mappa c'è la X, quella segnata nella parte in alto a destra, proprio fatta con i sassi. Abbiamo visto che la mappa è in realtà divisa in due parti e sappiamo dal trailer che tutti i grandi della mappa, quindi il prigioniero di fuoco, il re dei ghiacci e il cuore nero desiderano il tesoro. Ma ho anche questa immagine ragazzi, che è molto molto interessante. Non credo sia un concept art perché è fatto davvero molto bene ragazzi per esserlo e non mi sembra che faccia parte del trailer, se devo essere sincero. Quindi ragazzi, un'immagine molto interessante con il cuore nero che cerca il punto esatto della mappa ovviamente seguito dai due suoi fidati pesce secco. Insomma ragazzi, con l'update di oggi speriamo di capirne un pochettino di più. Ma andiamo avanti ed eccole finalmente le sfide della settimana numero due ragazzi, arriveranno domani. Abbiamo la prima che è la sfida dove dobbiamo atterrare, atterrare al bloc, atterrare a Dusty Divot, atterrare al picco polare, atterrare a Snobby Shores, dovrebbe essere spiagge snob se non ricordo male e atterrare al palmetto paradisiaco per completare le 5 stelline. Fare danni ai drop che scendono, quindi colpire le mongolfiere che stanno scendendo. eliminare i nemici, tre nemici, assalti spring oppure alle montagnole maledette, 10 stelline. Abbiamo anche ragazzi gli stage, quindi le missioni per chi ha il pass battaglia. prendere salute dalle mele, un totale di 25, prendere salute dai falò confortevoli in giro per la mappa, per un totale di 50, prendere salute dai medikit. Anche questa dovrebbe essere da 5 stelline. Ma andiamo avanti e abbiamo anche la missione dove dobbiamo visitare Insomma ragazzi dovremo visitare diversi punti segnati sulla mappa. Qua vi farò ovviamente un tutorial. Questo invece è difficile. Fai danni agli avversari con un cannone. Cioè dobbiamo colpire gli avversari con un cannone ragazzi. Questo secondo me sarà devastante da fare, 10 stelline. Cercare tre chest in location nominate differenti in un singolo match. E ci darà invece ancora 10 stelline. Probabilmente ci dirà anche la location e i chest da cercare. Insomma staremo ragazzi a vedere un pochettino come poterle compiere nel modo migliore. Vi ricordo che farò ovviamente i video. Ma parliamo anche un secondo ragazzi delle uova di drago. Lo sappiamo, oramai le abbiamo viste nella season 7. Erano sotto il castello. Adesso ce ne sono due dentro il vulcano. E ragazzi le posso azzartare a chiamare uova di drago. Perché in questo video c'è il signor Marshmallow. Che in questo leggero spezzone sapete. Marshmallow e Fortnite sono così. Guardate un po' ragazzi. Guardate un po' cosa fa il mello. Dice Good morning Marshmallow Bobo. We prepare some picklet dragon eggs. Quindi lui sta facendo. Non so se sia un video musicale. O comunque un video sul suo canale YouTube. E lui dice. Noi prepariamo qualcosa con le uova di drago. Ma noi dobbiamo stare attenti. Nella nuova stagione. Dove siamo. Più o meno è tradotta. In questo modo. Quindi ragazzi è proprio Marshmallow. Che spoilerazza. Il nuovo. La possibilità di sapere che le uova siano di drago. Ovviamente ragazzi. Noi ci fidiamo di quello che dice il signor Marsh. E staremo a vedere se così sarà. Anche perché per il momento. Queste uova sono lì bloccate. Non stanno facendo assolutamente nulla. Ma andiamo avanti. E parliamo anche un secondo. Nuovamente della skin iconic. Questa ragazzi è un'immagine. Un bug. Apparsa un utente di Samsung. Dove come vedete. Nello shop. Era già possibile per lui. Riscattare la skin iconic. Ovviamente essendo un bug. Non ha potuto riscattarla. Ma tutti gli utenti. Che acquisteranno un S10. Potranno una S10 plus. Potranno ragazzi. Lo sapete riscattare la skin. Con il suo balletto. Che si chiama scenario. Quindi anche questa. Se vi interessava. Era la schermata di caricamento. E chiudo parlando di un'altra skin. Che molti di voi mi hanno chiesto. La skin Honor Guard. Ci sono stati un bel po' di problemi. Sapete. Sono stati trapelati dei codici. Alcuni utenti hanno sbloccato la skin. Anche senza avere l'Honor. Come cellulare. Arriva un messaggio ufficiale. Da Samsung che dice. Ai nostri cari acquirenti. Stiamo cercando di rendere il processo di acquisizione della skin. In maniera un po' più semplice. Quindi abbiate pazienza. Ma posticipano ulteriormente la data. In cui si potrà nuovamente riscattare la skin. Posticipata al 28 marzo. Quindi se avete un Honor come cellulare. Dovete aspettare ancora un pochettino. Prima di poter riscattare la skin Honor Guard. Che a parer mio è veramente molto molto bella. Beh ragazzi che dire. Oggi ci aspetta un grande aggiornamento. Io vi ringrazio tantissimo. Per avere guardato questo video. Mi raccomando. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live alle 13. Ciao. 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 Ciao.